Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, 2 gennaio, anno nuovo, e mi sembrava giusto iniziare l'anno con un biscotto della fortuna, ok? E soprattutto con il messaggio che c'è dentro a questo biscotto. Chiaramente, come ho già spiegato negli episodi passati, non posso mangiarli questi biscotti perché li ho presi al supermercato nei mesi scorsi, nella corsia dei prodotti ultrascontati. Chiaramente, quando vedo che è una cosa scontata, la prendo e dopo controllo a casa la scadenza. Nel caso di questi biscotti, li ho presi tipo un lunedì e mi sono reso conto a casa, che scadevano due giorni dopo. E per me che me ne sono reso conto un mese dopo. Quindi, diciamo che sono immansabili, almeno così, penso, dopo c'è chi li mangia lo stesso, però. Però il messaggio che c'è all'interno, ok, sicuramente è sempre valido. Il messaggio che io mi immagino, anzi, deve essere positivo, perché ho bisogno di cose positive. C'è la legge che dice, se pensi positivo, avrai cose positive. Io voglio che questo messaggio sia positivo. Quindi, eccolo qua. Apro il tutto e leggiamo il messaggio, che sicuramente sarà positivo. Allora. Più sei silenzioso, più puoi sentire. Diciamo, non è proprio il messaggio che speravo, speravo tipo in un messaggio del tipo, avrai un anno stupendo, avrai una marea di botte di culo, avrai successi, avrai anche cose che magari non ti meriti. Perché bisogna sempre sperare in qualcosa, anche se magari uno non se lo merita. Cioè, capita sempre agli altri, cazzo. Perché per una volta non capita a me. Però questa frase devo dire che è vera. Più sei silenzioso, più puoi sentire. Da un lato posso dire che è vera sta frase. Perché quando stai in silenzio, ascolti gli altri. E magari ti giudicano, quando ti giudicano silenzioso, a sociale, a cose del genere, in realtà magari ascolti. E se ascolti magari i discorsi degli altri che parlano tra di loro, o magari i ragionamenti, capisci anche magari le cose giuste e le cazzate che dicono. E magari ti fai un'opinione. A volte la cosa giusta è non voler intervenire per forza. Dopo è anche vero che il migliore amico è quello silenzioso. Il migliore amico è silenzioso perché ascolta, sa ascoltare. Una persona che magari si vuole sfogare, una persona che ha bisogno di parlare. E che non per forza deve intervenire, deve dare un'opinione. A volte la cosa migliore, secondo me, è riuscire a farsi da parte, a mettersi in un angolo e ad ascoltare. A sentire quello che devono dirti gli altri, hanno da dirti gli altri. Senza volere per forza dirlo a propria. Senza volere per forza farsi vedere, a volte per quello che non si è. Quindi essere silenziosi ha i suoi vantaggi. Però, a volte, più sei silenzioso, più ti tieni tutto dentro. Di questo, secondo me, è anche uno svantaggio. Perché quando ti tieni tutto dentro, alla fine, soprattutto quando hai cose troppo silenziose, queste, gli altri non le sentono. Ma tu dentro, dentro la tua testa, dentro il tuo cuore le senti. E urlano queste cose. Urlano perché vogliono uscire. Se invece tu stai in silenzio e te li ascolti solo te, esplodono. Ok? Magli altri non vedranno i danni. Ma dentro le guerre e i danni che fanno, tu li senti. Magli altri non li vedono. Ma tu senti quello che provocano le cose troppo silenziose. Perché a volte, prima ho detto che è giusto essere in silenzio ed ascoltare. Ma a volte, secondo me, è anche giusto trovare persone che sanno ascoltare. Persone che, a loro volta, stanno in silenzio e ti ascoltano. Per far uscire, appunto, quelle cose troppo silenziose. Che prima o poi devono uscire. Quindi sto qua è un giusto messaggio, secondo me, per iniziare l'anno. E buonanotte.